L'orienteering è uno sport che si svolge in ambiente naturale e unisce capacità psicofisiche. Può essere vissuto come sport agonistico oppure semplicemente a livello escursionistico amatoriale, da soli o in compagnia, al solo scopo di stare all'aria aperta e immersi nella natura. Come dice lo slogan Orienteering, la natura ti corri accanto. L'orienteering ha anche un'importante portata educativa per la compresenza di impegno fisico ed intellettuale che incrementa parallelamente le funzioni cognitive e lo sviluppo fisico-motorio. L'ambiente naturale in cui si svolge questo sport permette inoltre lo sviluppo del senso ecologico, fatto di conoscenza, rispetto ed amore per la natura. Si tratta di una pratica sportiva che permette in particolare di esaltare valori come il rispetto delle regole, la valorizzazione della strategia, la socialità, la concentrazione, l'integrazione e l'impegno. La FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento, si pone l'obiettivo di fornire un importante contributo per un sano sviluppo della cultura sportiva ed ambientale attraverso attività didattiche come la formazione di tecnici, insegnanti e scolaresche, attività agonistiche come l'organizzazione di eventi promozionali e federali, attività culturali con mostre e conferenze, incentivando nel contempo lo sviluppo del turismo scolastico, sportivo e culturale.